Francesca Barale, reduce dal Tour de France, pronta per il Romandia ma soprattutto pronta per i campionati europei dove si è stata convocata in nazionale, quindi una bella soddisfazione. Sì, sì, diciamo che la convocazione era un po' aspettata, comunque ho avuto un bell'anno ed essendo la categoria Under 23, ecco mi aspettavo di andare, sicuramente non è il mio percorso, correremo più per un'altra ragazza, ma ecco dai, sono contenta di far parte della squadra. E fai anche un pensiero al mondiale? Beh, sicuramente all'inizio stagionese dovevo decidere, ecco guardavo più al mondiale che all'europeo e appunto essendoci la gara Under 23 anche lì nella gara Elite c'è un posto che ecco, può essere, posso essere convocata, quindi dai, spero in quello anche sì. Facciamo un passo indietro, parliamo della tua esperienza al Tour de France, dove sei andata bene, la tua squadra di SM ha vinto due tappe se non sbaglio, quindi un bel risultato, come ti sei trovata? Sì, devo dire, è stata una bella esperienza, completamente diversa da tutte le altre gare, come dicono il Tour de France è speciale, infatti lo è stato e poi vincere la prima tappa, prendere la maglia gialla con la nostra squadra è stato bellissimo e quindi diciamo, sono esperienze che mi porterò per sempre. E' sicuramente durissimo, il livello era altissimo, però in generale dai, sono contenta di come sono andata, ho finito increscendo e ecco. Tanta fatica, specialmente l'ultima tappa all'Alpe Duels. Sì, è stata molto lunga, però ecco, sono tutte cose che servono, quindi dai, sono contenta. Bene, adici del Tour di Romandia, tre giorni, ecco, con che prospettive lo affronti? Ma è una gara un po' aperta, diciamo, a parte il secondo giorno che appunto c'è l'arrivo in salito dove si decide la classifica generale, dove noi abbiamo la nostra leader, Juliette Labus, il primo e il terzo giorno in verità sono abbastanza aperti, quindi ecco, speriamo di avere un po' più di chance e correre un po' più libere. Grazie.